Allora, direi che possiamo iniziare, anzi riprendere, va bene, allora siamo quasi come vedete alla fine del discorso sull'API quindi come facciamo a implementare l'API di cui abbiamo parlato prima in express, quindi dobbiamo fare le root corrispondenti prendere i parametri e interagire col database, quindi riesumiamo quello che abbiamo fatto col database a inizio corso, nella seconda o terza lezione e le facciamo funzionare, quindi l'API di fatto sono dei normalissimi endpoint HTTP, sono degli URL HTTP che noi scriviamo barra answers, stamattina faremo le answers e così via, barra answers e deve venirci fuori un oggetto json cioè una stringa nel body, una stringa in formato json che rappresenti quello che noi vogliamo ottenere lato client poi la prossima settimana la portiamo dentro nell'applicazione, facciamo fare la richiesta dell'applicazione la portiamo dentro nell'applicazione e la visualizziamo e quindi abbiamo agganciato client e server e cominciamo ad avere un'applicazione un po' più sofisticata, cioè un po' più reale di quello che stiamo facendo finora ok, quindi noi dobbiamo semplicemente prima di tutto ragionare, definire le root quindi le API, come abbiamo detto prima, collezione, collezione barra id eccetera a seconda di quello che pensiamo ci serva nell'applicazione cioè dobbiamo poter aggiungere, faremo una post che ci consente di aggiungere dobbiamo poter cancellare, faremo una delete che ci consente di cancellare e così via quindi dobbiamo ragionare su quello che ci serve e poi dobbiamo saperla implementare quindi dobbiamo quando c'è bisogno di un parametro poterlo scrivere ma abbiamo visto prima come si fa, due punti con il nome del parametro e poi lo agganciamo vediamo degli esempi adesso e poi una volta che abbiamo il risultato restituirlo al client quindi a chi ci ha fatto la richiesta nella response la faccenda di solito si risolverà molto semplicemente con res.json che è un middleware di express e che prende ciò che noi gli passiamo come parametro la trasforma in una stringa json e la dà al client quindi avremo ben poco da fare la cosa a cui fare attenzione e a cui porremo anche tanta attenzione all'esame è sempre validare i parametri di input cosa vuol dire validare i parametri di input? quando ci arriva una richiesta con un id, questo id può essere qualsiasi numero, può essere qualsiasi cosa noi dobbiamo evitare che restituiamo cose che non vogliamo restituire o ancora peggio che scriviamo nel database, prendiamo informazioni che non vogliamo prendere perché tutto ciò è potenzialmente dannoso e potenzialmente ci crea dei problemi o di sicurezza, nel senso che se ci facciamo prendere dei dati che poi usiamo come comandi sul db possiamo distruggere il contenuto del db o quantomeno ci crea dei problemi di consistenza nel senso che se qualcuno ci fa scrivere degli identificativi che noi non vogliamo ma noi ci aspettiamo che siano tutti i numeri e a un certo punto viene fuori una stringa come identificativo magari il nostro codice non lo gestisce, va in crash, il server va in crash e il risultato è che va bene, ok, abbiamo solo per modo di dire un dato sporco nel db però intanto c'è il server che non funziona più, ok? se vi succede all'esame il server che non funziona più non dico che bocciamo perché non bocciamo più nessuno però insomma sicuramente perdete un sacco di tempo, di punti ecco oltre perdiamo un sacco di tempo tutti e due ok, però non lo so se sia bello o no non bocciamo più nessuno comunque c'è il motivo per cui tanti siti non funzionano non funzionano male e così via è perché non si fa attenzione a queste cose perché poi quando vi trovate veramente a programmare in un ambiente di lavoro eccetera non è come qui che diciamo vabbè non diamo l'esame a giugno speriamo di no, però lo diamo a settembre o due mesi in più eccetera arriva il vostro capo o la vostra capa e vi dice questo deve essere pronto per dopodomani fai in modo che lo sia pronto e allora escono degli accrocchi spaventosi, tutte cose poi lo sistemerò, poi me ne dimentico, poi non c'è tempo di sistemarlo poi devo fare un'altra cosa ed è il motivo per cui tanti siti, tante applicazioni funzionano male magari non semplicemente perché lo sviluppatore o la sviluppatrice non sapeva come fare ma perché non aveva tempo quindi dobbiamo fare attenzione a questi aspetti ok, quindi qui trovate un esempio delle due richieste anzi delle tre root più comuni la get per andare a richiedere l'intera collezione oppure uno specifico elemento all'interno della collezione e poi per creare un nuovo elemento all'interno di una collezione ok quindi le scriviamo in questa maniera che più o meno come abbiamo scritto prima la richiesta abbiamo scritto la get ma qui cambia solo che la root è diversa slash answers callback richiesta risposta andremo a fare l'operazione sul database e quindi qui stiamo chiamando una funzione che deve interagire col DB e quindi dovremo avere delle funzioni scritte che interagiscono col DB quindi andrà a fare una select asterisco from answers non lo so cosa andrà a fare questo però l'abbiamo già scritto nella seconda o terza settimana quando abbiamo visto l'SQLI 3 se abbiamo tirato fuori l'informazione al DB sappiamo come tirarle fuori le tiriamo fuori in un array di oggetti e questo array di oggetti lo restituiamo sotto forma di JSON a chi ci ha fatto la richiesta tramite res. che dà come risposta HTTP il contenuto in formato JSON ok ovviamente avete visto che qui ho scritto .den perché non a caso avevamo scritto tutte quelle richieste sul DB come qualcosa che ritornava una promise ricordate le promise perché? perché l'operazione sul DB può anche metterci tanto tempo non è tanto il nostro caso nei nostri esempi perché è tutto, come dire, locale quindi è abbastanza veloce però se voi doveste andare su un DB vero che magari in quel momento è occupato potete aspettare un po' di secondi per avere la risposta può succedere e voi se non scrivete le cose in questa maniera state bloccando il server ok quindi non dobbiamo mai bloccare il server perché sennò il server riceverà le richieste successive per altre API e però non può agire perché sta aspettando di darvi la risposta su questa ok va bene Express è un server semplice ok quindi la come dire la la gestione della concorrenza è un po' limitata ok se avete un server web vero magari riesce a gestire la concorrenza lo stesso anche se avete scritto il codice bloccante su una certa API però diciamo sicuramente non si può fare una seconda richiesta answers se c'è la prima in corso ok perché deve eseguire lo stesso codice non ha ancora finito di eseguire il primo quindi noi scriviamo sempre tutto come promise perché questo ci consente di andare a eseguire il codice solamente nel momento in cui i dati sono pronti ok quindi questa a sinistra è la cosa più semplice quella a destra è sempre una get parametrica e qui prima di andare a fare le operazioni devo validare l'id come faccio a recuperare l'id? c'è questo elemento params dentro rec che c'è nel caso in cui ci siano uno o più parametri sull'url quindi avete messo due punti qualcosa con lo stesso nome e che potete usare per andare a cercare le informazioni secondo quello che vi è stato richiesto ok quindi ci sarà questa read answer che andrà sostanzialmente a fare una query sul db qui ci sarà select asterisco from answers where quindi dove id uguale l'id che mi viene passato come parametro quindi non vado a recuperare tutto ma vado a recuperare solo un elemento solo una riga della tabella e poi e poi anche qui restituisce la promise quindi stessa cosa qui then answer rest json answer ok se abbiamo dei dati a restituire va tutto bene ok post ecco bisogna fare attenzione che abbiamo bisogno di usare un middleware in particolare questo json nel momento in cui ci arrivano le richieste dal client in formato application json questo middle cosa fa? ci spacchetta il body anche se in formato json cosa che di per sé express di suo non supporta mentre supporta la restituzione in json perché è una cosa veramente semplice stringify come abbiamo visto prima e via invece la lettura che richiede il parsing richiede di interpretare un header e così via è un po' più complicata e quindi dobbiamo chiedere a express di gestire il json ok in realtà json questo non è è un middleware interno a express quindi è una cosa semplice bisogna solo scrivere questa riga e cosa fa questa riga? fa in modo che quando noi arriviamo su post answers e notate bene lo stesso urlo di prima come si fa a distinguere se andare a chiamare questa callback di sopra o quella di sotto si fa tramite il metodo che è stato richiesto nella richiesta HTTP cioè il browser manderà post o get ok noi da browser non possiamo farlo stamattina lo faremo con un programmino differente però quando poi abbiamo il browser l'applicazione che gira dentro il browser dall'applicazione possiamo decidere se fare get o post o put o delete ovviamente se no potremmo non potremmo usare questi metodi ok quindi post answer e come facciamo a recuperare il contenuto del body il contenuto del body il record.body ok è sempre il record.body ma se noi abbiamo usato il middleware del JSON sarà già sotto forma di un oggetto javascript quindi noi lo possiamo passare come parametro alla create answer e la create answer si trova un oggetto javascript ok non una stringa JSON che dovrebbe se no parsificare e così via quindi facciamo fare il lavoro sporco diciamo così al middleware JSON di Express e quindi abbiamo già l'oggetto che sarà usato per creare l'answer quindi ci sarà una insert nella tabella answer nell'sql che ci mette le informazioni nella tabella ok e qui non abbiamo fatto nulla sarebbe bene dare almeno un codice di ritorno quindi almeno fare un res punto punto a end oppure punto status 200 punto a end nel codice adesso vediamo come farlo un po' meglio perché diciamo possiamo fare una serie di considerazioni sulla post cosa ha senso restituire da una post ok dopo lo facciamo ecco prima di smettere provare sul codice vi dico come testare l'API perché finché non abbiamo l'applicazione client cioè fino alla prossima settimana dobbiamo testarlo fuori dalla nostra applicazione allora quello che vi consigliamo noi è di installare questo plugin di visual studio code che si chiama rest client questo autore wa chao mao che è uno dei più diffusi ha 3 milioni di download quindi 2 milioni e mezzo insomma e va benissimo è facilissimo da usare adesso vi faccio vedere come usarlo ok come si fa si crea un file di testo che si chiama .http questo automaticamente aggancia questo .http capisce che sono richieste http e noi ci fa comparire un bottoncino e noi possiamo spedirle al server come se fossimo un browser col metodo che vogliamo quindi possiamo fare get post put mettendo il body e così via ok quindi molto comodo per fare i test più difficile da scrivere che vedere ok quindi andiamo a fare le nostre prove allora abbandoniamo il nostro server base quindi questo ve l'ho messo a disposizione ma è proprio giusto per fare una prova e andiamo a prendere il codice di server che avete già quindi questo chiudiamo ce l'avete già perché l'ho già messo ieri ok vedete a questo lo togliamo ok vabbè non so cosa c'è di diverso ma vabbè e ci sono già delle API scritte e invece ho lasciato due o tre API non so più quanto tempo avevo ma ne abbiamo abbastanza per andare a scrivere qualcosa noi quindi a provare a scrivere qualcosa noi ok però intanto devo farvi vedere tutto come funziona il sistema quindi allora noi abbiamo il file server js che è già in parte scritto da me e facciamo quello che abbiamo fatto prima const express require express morgan require morgan poi ci sarà il validetto che vediamo dopo il dao è un modulo che abbiamo scritto noi che contiene tutte le varie query select asterisco poi lo vediamo è al bisogno però insert eccetera quindi quello che avete potete partire tranquillamente da quello che avete fatto nel laboratorio cos'era due mi sembra due quindi quello che aveva l'SQLI3 partite da lì se volete prendere il vostro codice se no partite da quello che abbiamo messo online noi fa lo stesso ma questo è quello che facevamo l'altra volta solo che l'altra volta chiamavamo direttamente il metodo per fare le prove quindi c'era un server c'è un file js che non era un server web ma era un file da eseguire che faceva le prove faceva una select e ce lo stampava sulla console e così via qui non stampiamo in console ma mandiamo indietro al client ok allora server poi creiamo express qui la porta l'ho solo messo come una variabile per comodità ma non fa nulla diciamo di usare middleware morgandev expressjson come abbiamo appena visto sulle slide per quando riceveremo delle richieste json e poi ecco concentriamoci sulla prima no un po' troppo dai sulla prima API allora prima di scrivere l'API devo ragionare su quali API voglio cioè su come creare le gli URL che corrispondono a quello che io devo esporre lato server ok io qui in questo momento ne guardiamo una poi facciamo questo ragionamento in questo momento ho deciso che mi attenevo a quelle linee guida che vi ho raccontato prima della pausa quindi c'è una collezione che sono le domande la chiamo con un nome concreto al plurale questions posso usare anche l'italiano all'esame va benissimo l'italiano non c'è nessun problema il corso in italiano però sapete che l'inglese ogni tanto ci piace quindi abbiamo chiamato questions un po' per comodità così condividiamo il codice eccetera però quindi qui abbiamo questions ecco è sempre buona norma precedere tutti i nostri URL che vanno a realizzare delle API con un prefisso tipo barra API sarebbe anche buona norma metterci una versione ma diciamo siccome per l'esame farete una sola versione evitiamo ok però in un progetto vero cercate di di usare queste accortezze perché perché ci semplificano la vita perché sappiamo che tutto quello che sta sotto barra API è un API effettivamente quindi va a fare delle richieste sul db eccetera possiamo filtrare queste richieste se ne avessimo mai bisogno molto facilmente se invece ognuna si chiama a modo suo non sappiamo mai se sono delle API o se è qualcos'altro ok quindi questo è solo un trucchetto pratico però come dire vi invito a seguirlo se potete questions rec res down list questions adesso andiamo a vedere cosa c'è scritto dentro then questions res json ok e poi ho anche messo un catch giusto per farvi vedere che ogni tanto degli errori possono capitare quindi è una promise la promise può essere fulfilled o rejected se è fulfilled ci sarà nel valore della promise la lista delle questions e come saranno messa adesso andiamo a vedere la funzione che abbiamo chiamato perché è quella che decide come creare la promise io la prendo faccio res json questions e qui ho finito se c'è un errore non entrerò in then entrerò in catch mi verrà chiamato res status 500 end 500 se andate a vedere internal server error generico non ci sarà un body pazienza per ora ci accontentiamo e c'è stato un problema non sappiamo dire nulla ok allora list questions andiamo a cercarcela nel dao sarà la prima se non sbaglio list questions list questions è semplice facciamo return new promise resolve reject const sql select asterisco from questions e poi db all sql non c'erano parametri questo potremmo anche tirarlo via va bene error rose vi ricordate che passiamo una callback in cui ci viene impostato un errore se c'è stato un errore se non rose con la lista di tutte le righe recuperate ok quindi ifr reject r quindi qui risolviamo la promise con un reject e passiamo all'errore che di là abbiamo trascurato dopo magari lo recuperiamo così proviamo return ecco non scordatevi questo return perché il codice poi continua se non mettiamo un return perché qui dice semplicemente risolvi la promise con reject ma finché non ho finito di eseguire il codice il codice continua ok quindi importante o mettete questo return oppure mettete else ma dovete ricordarvi che dopo l'else non dovete più far nulla const questions quindi nel caso non c'è l'erre e quindi non abbiamo fatto il return proseguiamo const questions row map rows anzi è quello che è stato restituito dal db maps e mi creo il mio oggetto e faccio resolve questions ok in realtà qui ho usato i nomi delle colonne uguali ai nomi delle proprietà dell'oggetto quindi questo forse potevo risparmiarmelo tranne per il fatto che se io voglio un oggetto dei js ok devo crearlo il db non è che mi restituisce oggetti dei js o altre cose il db mi restituisce numero e string ok quindi dovete un po' pensare se vi conviene farlo o no comunque io ve lo faccio vedere perché avere un punto dove disaccopiare il nome che c'è nella tabella nella colonna della tabella del nome dell'oggetto che voi volete usare che poi prendiamo e spediamo al client questa cosa può essere utile no perché perché magari il db non l'avete fatto voi c'era chi piaceva chiamarlo questionnaire anziché author e qui avrete e.questioner perché il db vi dà il nome della colonna e voi lo dovete chiamare author e dovete in qualche maniera fare il mapping da qualche parte questo è uno dei punti migliori ok va bene quindi questo è la query sul db ovviamente va da sé che il db dobbiamo averlo aperto quindi all'inizio qui c'è costdb new escolite database dovremmo aver fatto require escolite 3 dei js ci serve e poi dovrebbe funzionare tutto ok quindi come facciamo a provarlo adesso proviamo allora attiviamo il server quindi questa volta dobbiamo eseguire server js il server si attiva perché in fondo c'è il nostro listen quindi come prima solo che essendoci tante funzioni per comodità l'ho messo anzi non per comodità lo devo attivare alla fine perché devo aver registrato tutte le route su app ok quindi prima c'è app get app post app che registrano tutte le route sul express e poi dico app listen ok così quando parti sono già tutte registrate quindi la porta è la 3001 la callback a dire vabbè il mio server è attivo su eccetera eccetera ok quindi lo lanciamo col node mon no abbiamo visto prima il perché perché così se devo fare una modifica si ricarica da solo ecco c'è già qualcosa che non va express validator è da installare npm install express validator che l'avevo importato lo usiamo dopo però è già nel codice allora giustamente se non c'è si lamenta vediamo un po' se c'è qualcosa altro nel frattempo no task manager validator morgan l'avevo già messo express no dovrebbe bastare vediamo se no ce lo dice no ce n'è ancora una uff sculite3 ed ajs quindi questo lo facciamo una volta solo sculite3 dayjs ok che sono nell'altro file che però siccome è caricato chiaramente bene eseguito e quindi dobbiamo dobbiamo installarli avere un attimo di pazienza dopodiché partirà il nostro server ok ok ci siamo server js stavolta ci siamo ok abbiamo installato tutti i moduli li ho fatto una volta sola sono tutti iscritti nel package json che a fine lezione vi metto online quindi c'è dayjs express validator morgan sqlite eccetera ok allora adesso c'è un server in ascolto su localhost 3001 come facciamo a testarlo questa roba possiamo buttarla via dunque localhost 3001 beh se una richiesta get il browser è di default quando noi mettiamo un url fa una richiesta get quindi se noi mettiamo l'url sulla barra del browser ci viene fatta una richiesta get proviamo cannot get slash ok ma lo slash non era registrato era questions happy questions happy questions ok questa è la risposta avete visto per un attimo la stringa perché adesso ci viene trasformato in questo formato così carino perché molti browser sono così gentili da interpretare anche il json e quindi quando vedono content type application json sono così cortesi da farcelo vedere in una maniera come dire più carina quindi come oggetti noi abbiamo nel db ho due elementi in questo momento adesso apriamo anche il db però è la risposta del server la risposta grezza è quella che avete visto prima questo è il json che non va a capo può anche andare a capo ma la capo è per gli umani al computer la capo non serve ok quindi c'è il pretty print va bene così ce lo fa vedere carino che ci capiamo qualcosa però di per sé per il computer non serve potete sempre andare dentro il network e ce l'avevo aperto quindi il response grezzo è esattamente quello che state vedendo lì sopra ok non fidatevi mai troppo di quello che viene visualizzato qui questa è una cortesia perché il browser è fatto per visualizzare pagine web quindi quello che vedete qui invece è quello che effettivamente è successo questo nel debugger guardiamo gli header response header vi faccio notare che c'era content type application json ok perché noi abbiamo restituito questo contenuto non col send ma con punto json che automaticamente inserisce l'header content type application json e questo sarà importante perché anche la nostra applicazione web deve sapere che la risposta è application json perché deve fare il parsing secondo json ok va bene questa è una maniera che avete per fare i test però è solo per le get un po' limitativa quindi noi vi consigliamo di fare un'altra cosa ossia di scrivere questo file .http che adesso è solo abbozzato ma mano a mano che andiamo avanti lo miglioriamo in cui possiamo fare le stesse cose allora per farlo funzionare devo aver installato qui nelle estensioni il mio rest client quindi metto rest adesso è già installato perché ieri l'ho provato perché se no arrivavo qui facevo una figura però arriva qui qui è già installato ci sarà il bottoncino installalo installate non mi sembra che faccia rieviare visual studio code e poi che succede semplicemente succede che se voi fate un file .http con questo formato vi compaiono questi bottoncini send request cioè voi dovete scrivere il metodo http è l'url se volete http 1.1 ma come vedete sotto non è indispensabile e potete mandare la richiesta facciamo la prova quindi send request quindi questo send request compare solo se avete installato il modulo non perché avete fatto .http e avete installato il modulino che interpreta questi file e ci fa questa cortesia adesso schiaccio il bottone e mi viene fuori la risposta in termini di header spazio body ok esattamente quella che vedevo prima niente di più niente di meno quindi c'è il content type application json esattamente quella di prima se vedete gli header sono un po' gli stessi tranne forse qualcosina il keep alive perché qui chiude eccetera va bene ma fa lo stesso diciamo gli header importanti che application json è come quello di prima 200 lo status code quindi quello a cui dovete fare attenzione è 200 perché lo agganceremo via javascript nel client e poi controllate che il contenuto sia corretto quindi sia un json che sia quello che vi aspettate e così via ok quindi potete fare tutte le prove che volete quindi se noi qui adesso chiudiamo e proviamo l'altra questions barra 1 è già implementata ovviamente per dire mi viene fuori solo quella con id uguale a 1 perché? perché ho già implementato nel server la questions due punti id io ho una get question che prende questo id abbiamo detto che lo prendiamo da params in params ci sono questi valori però l'url li deve contenere se io chiamo questions vado in quello di sopra come root non in questa perché non c'è un barra o qualcos'altro ok? e qui non c'è la validazione quindi se vediamo che succede quindi potete fare gli esperimenti questo è un barra ciao ok? forse si può anche non salvare send request boh not found ok? perché? perché sono io che poi ho deciso di trattarla così sono sempre io che decido qui if result error res status 404 json result quindi questo è una await quindi vi ricordo con la await il valore di ritorno e il valore del ritorno della promise fulfilled quindi era una promise fulfilled perché io ho scritto thou get question e andiamo a cercarla in questa maniera quindi quindi no ho sbagliato question where id uguale ok ok perché perché la promise no scusate perché se voi fate girare questa query e l'id è qualcosa che non è un numero che esiste come id nel database il database non è che dà un errore cioè è una query lecita semplicemente e la risposta sono zero righe ok perché non c'è nessuno che ha questo id punto e basta non è un errore nella query per cui il database effettivamente dice query errata o qualcosa di simile quindi io ho scritto if raw undefined resolve error question not found ok undefined è quello che mi viene fuori cercando la prima riga con la get sul db che non c'è e quindi sono io che ho deciso di scriverci questo not found me lo sono passato di qua quindi ho passato nell'oggetto result un campo error con scritto cosa volevo comunicare e qui sul server sono io che ho deciso che ritornavo un 404 con un body in formato json con dentro il messaggio che volevo metterci ok quindi un oggetto che ho scritto error due punti not found e infatti è quello che è venuto fuori no ok però sono io che ho deciso che questo errore lo mandavo al client il mio client in questo momento è questa estensione questo giocattolo che mi manda le richieste la prossima settimana sarà la nostra applicazione ok andiamo a vedere un attimo il db perché se no io continuo a parlare il db e voi non l'avete visto allora ci sono due file punto sqlite questo è il db sul quale stiamo lavorando ma mi ho messo anche questo initial perché perché dopo un po' che paccioccate magari avete cancellato tutto nel db e magari volete ripartire con del contenuto avete provato le delete avete cancellato tutto e adesso come faccio a rimettere le cose ho ricreo il db e questo si può fare io vi ho messo anche il codice sql da far girare per ricreare tutto il db ma dovete fare un nuovo database quindi cancellare il vecchio fare il nuovo eccetera o se no il grande vantaggio di usare il file sqlite3 è che prendete chiudete tutto prendete sqlite questo initial lo copiate sull'altro e il db è ritornato come prima ok perché il nostro db è un file ok questa è la comodità di usare l'sqlite3 ok ok apriamolo non possiamo aprirlo in visual studio code esistono delle estensioni se volete le provate così per comodità io però ve lo apro in chissà se ve lo fa no va bene lo apriamo col sqlite browser sqlite questo programmino che abbiamo già visto le altre volte che avete sia per linus che per windows che per mac quindi qualsiasi piattaforma abbiate va benissimo potete usarlo dovrebbe essere questo si ok non si può ingrandire non tutto allora il database structure ci sono tre tabelle due le ho create io una l'ha creata da sola quindi una è answer e una è questions quindi ho la tabella question e la tabella answer le domande e le risposte andiamo a vedere lì qua che sono più grosse quindi nelle answer c'è quello che avevo nel codice javascript fino alla scorsa settimana quindi c'è l'identificativo il testo della risposta il respondent lo score la data e ho messo ancora un question id come ho messo la scorsa settimana perché così riesco a collegare le risposte con le domande non quando avrò più domande ok questo è answer e questo è question quindi question un po' più semplice c'è l'id text testo delle domande autore e la data ok quindi normalissime tabelle niente di così complicato però posso farci delle select insert update delete e se è un database vero posso cominciare a fare questa operazione va bene cos'è la terza tabella così per curiosità SQLite sequest è una sua tabella interna in cui si tiene dd per fare l'auto increment ma sono fatti i suoi quindi questo non ci interessa ok oppla non ci interessa ne interessano le question e le answer ok va bene quindi quando voi create la tabella e la create con key autoincremency si aggiusta e si crea questa tabella si tiene le sue informazioni e basta ok quindi stiamo decidendo abbiamo visto come creare degli API semplici no delle get niente di particolare adesso sarebbe ora di ragionare su quali API effettivamente ci servono per la nostra applicazione ok quindi io vi invito a farvi un file readme tra l'altro un file che vi potrebbe anche tornare utile poi per l'esame perché all'esame chiediamo oltre a consegnare il progetto quindi ci sarà una cartella client cartella server un file readme in cui ci siano diciamo la descrizione dei punti principali del vostro progetto vi daremo un template e ci sarà i componenti principali che ho usato i nomi delle tabelle con le colonne che ho usato nel db le API che ho usato e che cosa fanno queste sono assolutamente fondamentali io quando guardo i progetti ma anche i miei colleghi iniziano di lì perché se voi vedete le API capite come funziona l'applicazione quindi dovete cominciare di qui quando ragionate sul progetto vabbè uno screenshot e i nomi degli utenti perché dobbiamo provarla quindi utente password e queste cose comunque vi daremo il template non vi preoccupate l'importante è che scriviamo bene ragioniamo bene sull'API ok sono scritto in questo formato MD che è molto semplice più che altro perché così le possiamo visualizzare facilmente c'è anche il preview in Visual Studio Code quindi io qui ne ho scritte un paio che sono quelle che abbiamo provato quindi url API questions metodo get quindi questo lo uso col get description cosa fa? mi ritorna tutte le domande body non c'è body fine risposta può esserci 200 ok successo 500 internal server error adesso lo facciamo capitare così vediamo come fa response body an array of objects each describing è questo quindi un esempio ok che ci può essere utile questa sarebbe la migliore documentazione possibile tra l'altro non è neanche detto che sia proprio la migliore dal punto di vista dell'esame perché se è un po' più compatta forse è meglio se uno mette get API questions eccetera comunque nel template vediamo qualcosa che vada bene ok in generale se avete scritto l'url abbastanza bene quasi la descrizione non serve no perché get questions cosa vuoi che faccia recupera le domande no certo che se uno comincia con get list of items poi get list of items due e il due erano le risposte e l'uno che non c'è e sono le domande eccetera non si capisce più nulla per questo abbiamo dato delle linee guida per fare per per scrivere gli url delle API ok e l'altra è quella che abbiamo provato è get question by id API questions id quindi è sempre questions notate è sempre questions bar id ok potevo anche scrivere question ma va contro le linee guida che abbiamo dato ok se abbiamo dato delle linee guida è perché ci aspettiamo che seguendole vi aiutino perché se poi scrivo question devo ricordarmi che nella root devo scrivere question e poi finisce che da una parte ho messo il plurale dall'altra ho messo il singolare e ho fatto copia e incolla mi sono scordato della S e così via e sono lì a debuggare l'API perché perché non ho seguito le linee guida se invece è sempre tutto plurale boh punto basta e funzionano anche i copia e incolla va bene id quindi recupera la domanda identificata dall'id quello che passo non c'è body e c'è response 200k 500 server e 404 not found per esempio l'id non esiste ok wrong id ah ok la risposta il body della risposta è un oggetto che descrive una singola question notate qui c'è solo un oggetto aperta graffa sopra c'era aperta quadra con un array questo devo saperlo questo fa parte della definizione dell'api le api devono nella loro descrizione devono dirmi se ritornano un array o un oggetto di solito se la collezione ritornerà un array al massimo mi ritorna l'array vuoto aperta e chiusa quadra si può trasmettere in JSON un array vuoto come un oggetto vuoto come una stringa vuota tutte queste cose si possono trasmettere quindi non c'è problema da questo punto di vista l'importante che io abbia conoscenza di cosa viene fatto perché poi io questa cosa col JSON la porto a diventare una variabile in JavaScript e devo sapere se è un oggetto o no perché se è un oggetto andrò a accedere ai campi se è un array ci metterò aperta quadra 0 aperta quadra 1 farò una map farò un for each ma se faccio un for each su un oggetto poi si pianta l'applicazione lato client ok quindi devo sapere cosa mi dà l'API devo pensarlo qui in questo momento in questo momento in cui sto pensando alle mie API ok quindi allora quali altri API possiamo pensare di fare quindi proviamo a scriverne una ok scriviamo scriviamo qualcosa che abbia ecco che non sia proprio banale no perché ovviamente avete question e question ID potete scrivere answer answer ID si tratta solo di fare copy and call e cambiare il nome ok proviamo a scrivere invece che so quindi scriviamo con la stessa sintassi recuperare tutte le risposte di una certa domanda ok che non è come prima tutte le risposte e basta tutte le risposte di una certa domanda perché ci servirà perché io in questo momento ho risposte ad una sola domanda ma quando poi due domande più risposte sono risposte di una domanda le risposte dell'altra ok allora qui scrivo questo è testo sono io che mi faccio il mio piano potete farlo su carta se vi da fastidio il computer ok adesso ne facciamo una poi cerchiamo di velocizzare ovviamente alla fine della lezione vi metto poi online tutto però se qualcuno ha delle idee diverse questo è il momento di parlare quindi non c'è mai un'unica soluzione in questi casi semplici spesso c'è un'unica soluzione che è la migliore però in un'applicazione come quella dell'esame in un progetto complicato ci possono essere diverse idee spesso arrivano tanti studenti con idee diverse ugualmente valide è importante essere coscietti dei vantaggi e svantaggi quindi tutte le risposte a una certa domanda given question question ovviamente la domanda la identifichiamo tramite l'id della domanda ok quindi l'url quale sarà quindi questa è la prima cosa che dobbiamo chiederci che url mettiamo barra api sicuro perché abbiamo detto che tutti iniziano per barra api e poi ricordate cosa abbiamo detto prima delle relazioni no questa è una relazione tra due collezioni ci sono le domande ci sono le risposte allora noi vogliamo tutte le risposte a una certa domanda io la scriverei così questions col plurale abbiamo detto che mettiamo sempre il plurale poi il nostro id il maggiore e minore è solo una questione sintattica ma questo lo leggiamo noi se vi piace di più scrivete due punti d va benissimo insomma l'importante è che capiamo che quello è un parametro non è un nome e poi answers c'è qualcuno che avrebbe scritto answers id question e per sé si può scrivere mi piace meno perché perché di solito la prima è la collezione sulla quale andiamo a specificare l'identificativo e poi specifichiamo la relazione quindi dopo diciamo che vogliamo le risposte ok però visto che non abbiamo non chiediamo che sia tutto fatto come dice rest eccetera diciamo che qui la soluzione è accettabile è importante che ci sia scritto question answers un id è importante sapere che quell'id è l'id della question quindi della domanda ok metodo che metodo usereste abbiamo solo quattro scelte get post put delete no una get questo recupera informazioni tutto ciò che recupera informazioni non modifica niente l'altro server è sempre una get ok a questo punto description vabbè description description poi la metteremo request body non ok cioè non c'è body nelle get punto e basta quindi quasi superfluo response cosa ci può rispondere questa secondo me è come quella di prima quindi qui ci sta benissimo il copio e incolla perché perché di fatto andiamo a ricercare una domanda per id e questo id potrebbe anche mandarci a una domanda che non esiste perché l'id qualcuno ci mette un numero qualche stringa qualcosa quindi potrei anche dire not found oppure internet server va bene se no success ci sarà la risposta response body un oggetto no non è un oggetto ma sono più oggetti quindi in realtà io andrei a copiare direttamente di qua allora response body copia lo faccio anche così rimane bene nel video e si vede cosa facciamo paste un array of c'è deciso scrive in questa è una answer un answer va bene quindi ci mettiamo lì di cos'era text for of facciamo un esempio for of questo era no respondent Alice Alice eccetera ci sarà score alla fine lo metto ma no vabbè mettiamolo va score ecco notate score tra virgolette lo score invece un numero il json supporta i numeri quindi i numeri non hanno le virgolette mettiamo l'ultimo question id e 1 ok notate che il json non vuole la virgola dopo l'ultimo però noi il json non lo tocchiamo mai a mano questa è documentazione quindi in realtà non viene eseguita ok poi ci sarà id 2 3 eccetera facciamo un esempio va bene ok ecco questi nomi che mettete qui questo è il vostro contratto nell'API cioè indipendentemente da cosa c'è scritto nel db nel nome delle colonne questo è quello che l'API ritorna saranno fatti miei nel codice fare in modo che ci siano scritti questi nomi come prima abbiamo detto c'era nel DAO c'era questa cosa che creava l'oggetto qui posso dare i nomi che mi pare se la voglio chiamare id question la chiamo id question l'importante è che sia coerente con quello che ho scritto qui perché questa è la specifica l'API potrebbe anche farla qualcun altro anzi in generale nei progetti seri nei progetti grossi c'è qualcuno che fa il server e qualcuno che fa il client o è piccolino fate tutto voi come fate per l'esame oppure c'è qualcuno che fa il server e dice io ti restituisco i dati in questo formato poi ti aggiusti se c'è da convertire i nomi mappare i nomi e così via e chi fa il client idem è un po' come quando ho fatto una funzione uno la chiama e l'altro la implementa e chi la implementa si basa sull'assignature cioè i parametri e chi la chiama deve chiamarla con quei parametri c'è una domanda quando spieghiamo in generale delle API si nelle get nell'ottica di mantenere l'app single page si noi andremo sempre a fare una get o no allora dice nell'ottica di mantenere l'app single page noi dovremmo fare una get sempre di tutti i dati no la prossima settimana vediamo noi possiamo fare più get nella applicazione single page application che vanno su API diverse no anzi le potremmo addirittura far andare in parallelo se proprio volessimo ok quindi a noi interessano delle API che ci diano delle azioni che hanno senso per la nostra applicazione questo è il principio che ci deve guidare che è diverso da un API che mi dia tutto perché non ho voglia di chiamarne 5 ok cosa vuol dire che hanno senso vuol dire che se io ho un bottone che so come vediamo tra poco incrementa il voto io vorrei avere un API incrementa il voto ok perché perché questa è un'azione che deve fare il server se ho la possibilità di aggiungere una risposta vorrei un API che mi aggiunga la risposta però se ho che so da caricare gli utenti la lista delle domande la lista delle risposte non lo so che altro il colore del il tema del browser eccetera posso fare diverse API questo nessuno me lo impedisce anzi direi è quasi consigliato perché così nel momento in cui devo ricaricare solo parte dell'informazione non devo per forza ricaricare tutto ok ok è rara che andremo a caricarlo no perché dipende dall'applicazione faccio un esempio magari lei ha l'email nell'email lei vede la lista dell'email e vede che c'è un'email oggi una ieri l'altro ieri e così via però vede che so il subject e poi ci clicca sopra e vuole aprire il contenuto no lei non vorrebbe caricare tutte le sue email con tutti i contenuti prima di sapere che ha bisogno solo di vedere il contenuto della seconda email ok questo è il senso di avere queste API che vanno a recuperare solo un singolo elemento un singolo oggetto una singola riga dal DB ok però questo chiaramente giustamente viene più chiaro nel momento in cui abbiamo chiaro cosa deve fare l'applicazione perché se l'applicazione ha solo da fare due cose possiamo anche caricare tutto insieme no se però ha tanti dati da caricare poi abbiamo una vista di dettaglio e così via allora ha senso andare a fare le API stamattina stiamo facendo un po' un misto no perché stiamo facendo un qualcosa per far pratica che ci servirà dopo però effettivamente la nostra applicazione è talmente semplice che come dice lei dell'API questions id potevamo farne a meno perché ci sono due question in questo momento ne avessimo 20.000 allora un altro discorso ok nel senso che tra l'altro poi quando diventano tante queste API dovrebbero magari anche avere un modo di dire quanti dati restituirmi mi restituiscono gli ultimi ne voglio di più tutto quel punto interrogativo eccetera su tutti i parametri utilizzabili per gestire questi aspetti ok però noi ci conteniamo in questo momento e facciamo delle cose semplici per iniziare a prendere familiarità col sistema ok questa l'ho scritta la implemento ok vista allora devo fare un po' di copia e incolla ma mi perdonerete mi mettono là in tutto quindi sostanzialmente allora come faccio implementarla in server ah no scusate è già qui in server l'ho già implementata questions id answer la scrivo è una get question id answer async vabbè qui l'ho scritto async rec res va bene va bene anche function fa lo stesso tanto ritorniamo una promise fa lo stesso ok i metodi di express funzionano anche con le callback asincrone ok e poi e poi vado a fare dopo guardiamo il resto del codice dao least answer by question rec parami d e rec parami d è come prima quindi lo recupero nella stessa maniera least answer by question vediamo se c'è il oppla si posso andarci no ok vado dentro all'altro file dao cosa fa select from where question id ok e che cosa fa mi fa la solita come prima rows map l'unica differenza è che questa volta ci sarà il where e quindi c'è un filtro solamente per quello che mi serve ok e va bene quindi questo niente di particolare come quella di prima ne ho scritta una apposta che prende un parametro in più che la usa nel where server e poi faccio come prima result error il console log ieri debuggavo un pochino però potete lasciamolo ma così viene nel commit potete stampare ecco lo ciso stringify è uno dei modi comodi per stampare degli oggetti quando avete il console log e siete in console che non sempre vengono stampati col contenuto eccetera stringify sostanzialmente vi espande tutto l'oggetto e vi fa vedere effettivamente cosa c'è dentro ok res status 404 json resal come prima quindi ci scrivo error not found altrimenti res json altrimenti catch res status 500 end va bene se c'è stato un error sul db tra poco lo creiamo vi ricordo validare l'id validare l'id vuole anche dire che ogni tanto magari dobbiamo fare più query sul database ok perché perché noi come facciamo a sapere se l'id è valido o no sì potremmo mettere come c'è più sotto poi c'è un validetto se è un numero un intero e va bene ok ci sta però se è un intero non è che ci dice effettivamente se esiste o no finché non lo chiedo al db non lo so ok quindi se io decido io decido che nella mia applicazione le mie api deve dirmi se l'id esiste o no sulla question quindi la question esiste oppure la question non esiste devo andare a chiedere al db perché con la seconda query quella col where non so se non ho trovato nulla perché non ci sono risposte ma la domanda esiste oppure la domanda non esiste per cui non trovo nulla ok quindi devo sempre essere io che decido cosa fa le mie api se per la mia api va bene rispondere nulla mi accontento va bene questa prima parte non serve perché tanto questo parametro lo posso passare tranquillamente qui question id al massimo non trovo nulla e sto tranquillo ok però devo decidere io cosa voglio fare se voglio distinguere i due casi mi serve una seconda query non c'è nulla di male nel fare una seconda query lato server per rispondere a un api non è che tutte le risposte all'api diciamo si risolvono con una sola query ogni tanto ce ne sono anche più di una all'esame tipicamente su alcune ce ne sarà più di una ok proviamola get devo velocizzare un po' quindi andiamo a prenderla dalle solution quindi c'è la get question queste due ok quindi le devo semplicemente separare con col triplo cancelletto perché il plug-in vuole questo allora proviamola ok funziona mi viene fuori application.json e mi vengono fuori le quattro risposte come prima ok proviamo l'altra question 2 question 2 vi ricordo esiste la domanda ma non esiste la risposta non ci sono risposte proviamo e mi viene fuori l'array vuoto ok 3 e proviamo e mi viene fuori error ok perché? perché sono andato prima a chiedere a decidere che cosa rispondere nella mia API a seconda che l'idia esiste oppure no se no la risposta era sempre l'array vuoto perché la query non dà errore la query dà errore solo quando è veramente errata facciamo una prova roviniamo questa query finalmente per modo di dire anzi dunque questa salviamo la query sta in dao questa query where where ogni tanto scrivete la query sbagliata giusto? questo è il caso tipico in cui viene fuori l'errore che di solito è solo in sviluppo ma l'esame non dovrebbe mai capitare no? quindi where where non funzionerà proviamo send request ok 500 internal server error la promise è stata rejected perché if r di prima if r è entrato if r reject r adesso questa è un'altra però fa lo stesso if r reject r ha fatto reject ok un attimo è che non è ancora finito c'è ancora una cosa importante andiamo a fare l'api importante perché ci serve la prossima volta l'api importante è quella della post quella per creare l'oggetto senza creare oggetti facciamo ben poco nella nostra applicazione allora copio perché se no non ci stiamo dentro allora facciamo la creazione quindi noi decidiamo che vogliamo aggiungere una nuova risposta quindi ce la leggiamo adesso ve la metto e ce la leggiamo preview add answer allora url api answer è come quella di prima della get però il metodo è post dovremmo passare un application type json dovremmo dare un oggetto quindi anche qui dobbiamo specificare quali sono i campi dell'oggetto questo arriva dal client quindi dovremmo adesso scriverlo noi per provarla e ci risponderà 201 created oppure non funziona e c'è un errore di parsing perché non è un json è quello che volete risposta 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 dobbiamo decidere cosa rispondere possiamo chiuderla con ok ma di solito non basta perché perché quando ho creato un oggetto nel db l'oggetto prende un nuovo identificativo che crea il db ed è solo il db quello in grado di creare questo identificativo ricordate in lab questo film lo create fate add lo create poi non sapete che id dargli perché non avete il server adesso che il server c'è la prossima settimana lo colleghiamo con l'applicazione ci arriva questo benedetto id dobbiamo restituirlo al client ok quindi un'opzione è restituire solo l'id se 200 ok 201 creato restituire solo il numerino dell'id e ci può stare una seconda opzione come ho fatto qui restituire tutto l'oggetto con in più l'identificativo quindi id 15 che sopra non c'era perché potrebbe essere utile questa seconda opzione perché magari aggiungendo ha corretto anche qualcosa nelle informazioni quindi potrei avere un oggetto aggiornato ci può stare ok decidete solo cosa fare questo id in qualche maniera deve tornarvi indietro ok allora l'abbiamo implementato per recuperare l'id dovete andare a vedere allora app post qui api answer andiamo a vedere dov'è create answer ok definition create answer ci fa insert eccetera ricordate come si recupera l'id c'è questo this last id deve essere una function e non una raw function ma questo l'abbiamo già visto nella settimana 3 2 o 3 non so più e lo restituiamo e quindi nel server poi lo usiamo answer id ecco in realtà questa quindi è diversa dal ritmico scritto poi magari in ufficio la correggo questa restituisce solo l'id e non mi restituisce tutto l'oggetto ok se no dovrei prendere l'oggetto decidere se se so che il database non mi fa modifiche prendo l'answer e ci aggiungo l'id ok e quindi devo solo decidere che cosa fare ok proviamola per provarla vado a copiare di nuovo perché la post è un po' più lunga perché dovevo fornire un body ok quindi per fare la post quindi qui devo separare così mi viene estendere qui post api answer come vabbè questa è answer content type application json linea vuota come in http e poi prendo questo e questo me lo manderà come body facciamo una prova send ok create 201 5 perché io non ho restituito l'oggetto e ho restituito solo il numero ok il nuovo id se vado a vedere cosa c'è qui dentro adesso c'è 5 prova bob quello che ho creato ok è andato nel db il db ha reso permanente la modifica ok quindi mi raccomando fate queste prove ancora una cosa l'ultima dove è andata server notate che ho fatto validazione qui io non voglio per esempio questo è un esempio ho imposto che la lunghezza del respond sia almeno uguale a 1 non voglio inserire dei respond con stringa vuota questa è una decisione che ho preso io in questo momento sul server ma giusto per farvi vedere un esempio score deve essere un intero ok qui non ho messo che non deve essere negativo l'avevo messo sul client non è la stessa cosa prossima settimana ne parliamo però almeno non voglio mettere una stringa e così via tutto quello che arriva qui deve essere validato mi raccomando importante questa cosa all'esame la guardiamo molto quindi ci tornerò comunque spesso perché chiunque può mandare richieste al server non solo chiunque in giro per la rete magari se sei autenticato sei tu invece quello che puoi fare però qualsiasi utente anche autenticato puoi decidere di aprire un programmino come questa estensione visual studio code ce ne sono tanti farvi la richiesta post e mettervi dentro quello che vuole indipendentemente dall'app chi mi dice ma nell'app ho fatto non ha capito nulla nell'app ho controllato che nell'app non controlli nulla l'unico posto dove si controlla che ciò che arriva sia coerente è il server punto e basta solo il server nel client facciamo tante cose carine comode per far funzionare bene l'applicazione ma non sono qualcosa che impone un certo comportamento sul database perché l'unico che può imporre il comportamento è il server ok guardatevi poi ancora io ve l'ho già messa no in realtà non l'ho messa ma la creeremo no il voto si l'ho messa ok quella del voto perché interessante perché nel voto noi non facciamo non decidiamo di fare più uno noi diciamo che fa più uno ma lo deve fare il database provate un po' a pensarci perché perché lo facciamo fare il database e la prossima volta vi do la risposta quindi nel DAO ci sarà vote vabbè la dobbiamo fare adesso ve la metto online il vote è questo dov'è ok lo facciamo fare al database pensateci come mai prossima volta la risposta ok direi che per oggi finiamo qua grazie a tutti grazie a tutti